Come è il sindaco di Cremona? Vi siano liste rappresentative della cosiddetta società civile, largamente rappresentative di strati sociali della città di Cremona. Mi riprometto, nel caso di Vittoria, di proseguire e sviluppare il programma fino a qui svolto. Sarà il secondo e ultimo mandato e questo mi agevola perché mi permette da un lato di portare a compimento quello che ho iniziato, il parcheggio sotterraneo di Piazza Marconi è forse l'opera più nota e mi rende anche più libero dai condizionamenti che in molti casi sono necessari a chi svolge il primo mandato. Proseguire, dicevo, e per questo chiedo il voto, nel programma avviato. Noi abbiamo completato in questi anni il recupero di oltre da 27 a 58 chilometri di piste ciclabili e il recupero di quasi 300 appartamenti popolari dall'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo in questi anni sviluppato un programma sulla viabilità che ha ridotto del 32% gli incidenti nella città di Cremona e quando nel prossimo mandato potremo fare anche la terza fase di lavori nella zona della stazione portando fuori dalla città il traffico dei bus scolastici avremo finalmente risolto il problema di passaggi intensi lungo il viale Trento e Trieste e prima di via Dante. Per quanto riguarda i servizi sociali e educativi Cremona è all'avanguardia tra le città italiane. Vogliamo proseguire così. I servizi sociali sono una risorsa importante soprattutto per gli anziani. Noi vogliamo sviluppare questi servizi, vogliamo aiutare le persone a superare la crisi. Abbiamo stanziato risorse anche per questo. Oggi le difficoltà sono veramente notevole per le famiglie e noi saremo a loro vicine. Io posso assicurare tutti che non avrò altri padroni che la città di Cremona. Io posso assicurare tutti che non avrò altri padroni che la città di Cremona. Io posso assicurare tutti che non avrò altri padroni che la città di Cremona.